Ciao ragazzi! Calcoliamo l'integrale di coseno di e alla x per e alla x in dx, applicando il metodo di sostituzione. In particolare imponiamo e alla x uguale a t, ne calcoliamo il differenziale e alla x dx uguale a dt. Allora, sostituendo, abbiamo l'integrale del coseno di t in dt, proprio perché questo e alla x lo abbiamo sostituito con t e tutto e alla x dx diventa questo dt. Ma allora la primitiva del coseno è il seno, quindi seno di t più una qualsiasi costante reale c. E, tornando indietro con la sostituzione, otteniamo seno di e alla x più una qualsiasi costante reale c. Ciao!